Ciao, ma tu hai già donato una parola a Ternemo? Non sai come si fa! Intanto scarichi l'app ad uno degli indirizzi che vedi qui sotto. Dopodiché, una volta che l'hai scaricato, apri l'app. Clicchi su Dona la tua voce a chi non c'era più. Clicchi su questo tasto. Amore! Dopodiché clicchi su Fine. Puoi scrivere la tua parola. Se vuoi puoi mettere un'immagine del profilo. In questo caso non la metterò. Accetto la liberatoria. La leggo. La accetto. Indio. E ho donato una parola a Ternemo.